Il Palermo ha iniziato questa mattina al tenente onorato la marcia d'avvicinamento verso la trasferta di Torino. I rosaneri impegnati ieri contro il Sassuolo hanno svolto lavoro di scarico, il resto del gruppo invece ha svolto lavoro atletico, esercitazioni sul possesso palla e partita finale a metà campo. Stefano Sorrentino si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti, attività di riatletizzazione invece per Francesco Bolzoni e Michel Morganella. Nel pomeriggio verrà diramato su palermocalcio.it un report medico su Uros Giurgevic, domani il Palermo sosterrà una seduta pomeridiana a Bocca di Falco.